Ciao ragazzi, me lo avete chiesto, allora a che punto sei con l'esatau a mettere a posto? No, non è che non lo stiamo facendo, il camion sta andando avanti, la meccanica la stanno mettendo a posto, adesso porteremo la cabina in carrozzeria, e sì, il cassone ve lo ricordate? Allora, eccolo qui, abbiamo ritirato fuori la scritta SOM, il cassone è qua, praticamente rifatto, quindi sì, tranquilli, stiamo andando avanti, Nicola è il mio meccanico, sta andando avanti con due o tre bestemmiette, ma poco e niente, e vi terrò aggiornati, ripeto, state tranquilli, non l'abbiamo tagliato, non l'abbiamo buttato via, il ferro vecchio va! Comunque, per chi se lo fosse perso, metto come al solito qui sotto in descrizione il link dei due video del Lancia Zatau modello B, così ci date un'occhiatina e capite di cosa sto parlando.